Bella a tutti free readers, oggi siamo qua a lanciare un appello importante al Presidente della Commissione Giustizia, della Camera dei Deputati, Per Antoni, perché è importante che il Presidente si assuma la sua responsabilità di fare veramente in tempi rapidi la sintesi sul DDL Maggi e DDL Molinari e portarla al voto della Commissione Giustizia, perché i tempi sono sempre più stretti per una sua approvazione eventuale sia alla Commissione Giustizia sia alla Camera dei Deputati, cosa che non basterebbe per far diventare comunque il DDL Legge, perché dovrebbe passare poi alla Commissione Giustizia del Senato ed essere votato dall'Aula del Senato, cosa molto molto difficile, dobbiamo rimanere reali, è complesso ad oggi con i numeri, l'abbiamo visto anche con il DDL ZAN, vedete è complesso fare passare una legge già sostenuta da tutta la sinistra eterogeneamente in Parlamento e figuriamoci una legge già divisiva all'interno della stessa sinistra, con una destra comunque fortemente contraria su tutte e due queste leggi, ecco, allora è ancora più complesso il DDL Maggi come tipo di approvazione rispetto all'DDL ZAN e allora figuriamoci, perché se l'DDL ZAN probabilmente ha visto tutte le difficoltà che sta vedendo e le vedete attualmente anche voi tutti, ogni giorno con i compromessi, con i ralentamenti ed è già al Senato, è già stato votato alla Camera, figuriamoci il DDL Maggi che è ancora più divisivo come tematica ed è ancora alla Camera e non è ancora stato approvato. Pensate di DDL ZAN è stato approvato nel novembre 2020 alla Camera e insomma siamo adesso a luglio dell'anno dopo e ancora non è stato approvato al Senato, quindi i tempi insomma sono più o meno questi, ci vogliono 6-7 mesi da una Camera all'altra, non è necessario che serva questo tempo, però di solito usano questo tempo, soprattutto in un momento come questo. Inoltre arriverà anche il semestre bianco, ossia il momento in cui il Presidente della Repubblica dovrà rimettere il suo mandato e quindi le Camere non potranno essere sciolte, ci saranno ancora ulteriori tensioni, ci saranno le amministrative in autunno e quindi figuriamoci se tirano in ballo a livello parlamentare l'approvazione di un tema ancora così divisivo anche all'interno dei singoli partiti. Ma questo non significa rendersi, non significa rassegnarsi a una non approvazione e quindi bisogna puntare almeno la discussione in aula parlamentare per cercare alla Camera di rilanciare a livello nazionale questa tematica, questo dibattito per vedere anche il polso della situazione nel Paese, per cercare davvero di aprire questa discussione nazionale che altrimenti viene rimandata adatta da destinarsi e allora un passaggio fondamentale è quello che deve fare Mario Perantoni, deve portare il testo base sul quale discutere, il nostro appello è di farlo in fretta e di farlo con coscienza inserendo un numero di piante minimo in linea con il DDL del manifesto collettivo che è sempre nella sua commissione giustizia, quindi il manifesto collettivo è conosciuto dai parlamentari e dai deputati e sottoscritto da molti di loro e quindi può servire da spunto per un testo base almeno nel numero minimo di piante. Allora procediamo in questa direzione, lanciamo questo appello e cerchiamo di veramente velocizzare questa tematica, quantomeno di aprire il dibattito nazionale, perché ripetiamolo è difficile una sua approvazione, non vogliamo illudere nessuno, ma bisogna lottare, bisogna impegnarsi anche noi che vogliamo una legge più completa, stiamo cercando di concentrare le nostre forze sull'aprire un dibattito nazionale sulla tematica. E allora per Antoni, forza, apriamo questo dibattito, cerchiamo di rilanciare questa situazione. Commentate con l'hashtag per Antoni sintetizza qua sotto e continuiamo a diffondere informazione su tutti i social, su tutto, su Twitter, su Facebook, su Instagram, commentiamo e diffondiamo con l'hashtag per Antoni sintetizza e diffondiamo questo appello, cerchiamo di arrivare a una sintesi che sia importante, che sia apprezzata anche dalle associazioni, dai consumatori, dagli attivisti. Bella a tutti i free readers, continuiamo a informare fino alla libertà.